Ma io credo che il cambiamento sia necessario, parlavamo di fine vita, di droghe leggere, mi verrebbero in mente le parole del procuratore nazionale antimafia, Caffiero Derao, che mi pare che sulle droghe leggere abbia detto davvero che le norme sono vetuste, queste regole non aiutano neanche a contrastare il crimine, anche perché le droghe leggere, come dire, sono non legali, ma poi, come diceva Marco Pannella, sono liberalizzate, le troviamo anche ai giardinetti davanti alle scuole. Credo che un dibattito pubblico, sono d'accordo con Roberto, sia fondamentale e bisogna creare occasioni di confronto democratico anche su questi temi. La giustizia, oltre che il possibile disordine politico tra forze di governo che sono già in campagna elettorale, probabilmente già sulla concorrenza e sulle concessioni balneari, vedremo qualche smottamento, ma c'è un'altra scadenza ancora prima, Andrea, ed è luglio quando scadrà il CSM. Allora, se non si riuscirà a riformare le regole del CSM per via parlamentare, abbiamo visto il maxi-amendamento del governo venerdì sul DDL in discussione, se non si arriverà in tempo con quello c'è un'altra occasione, che sono il referendum giustizia, altrimenti assisteremmo all'ennesima ipocrisia di un sistema che, ormai da due anni, parla di sistema palamara, correntismo, si fanno i libri, grandi denunce, grande indignazione, e poi che facciamo? A luglio rieleggiamo il CSM con le norme vigenti? Quindi, insomma, che sia per via referendaria, che sia attraverso il dibattito parlamentare sull'IDL che è in Parlamento, io credo che il cambiamento deve esserci, altrimenti questa politica sembra irretita in un dibattito tutto di palazzo, lontano dai temi che poi toccano la vita di milioni di italiani. A favore di questi temi, pubblicità, vediamo un po' di...